È partita oggi dalla cattedrale di Palermo e arriverà il 5 maggio ad Agrigento. È il cammino sulla Magna via Francigiana per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei malati di fibromialgia, la sindrome che consiste in una forma comune di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce circa 2 milioni di italiani e che è ancora considerata immaginaria. Il gruppo di pellegrini, formato da pazienti, supportato da un'equipe medica guidati dalla vicepresidente dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica Giussi Fabio e da Salvatore Balsamo, socio dell'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia è stato accolto a Monreale dal Comitato dei Pellegrini della Magna via Francigiana Monreale Altofonte. I partecipanti hanno ricevuto la benedizione nella cattedrale dall'arcivescovo Michele Pennisi un cammino solidale che nasce dalla volontà di informare e sensibilizzare per fare in modo che i pazienti non siano più soli, che conoscano la realtà associativa italiana a sindrome fibromialgica affinché non siano più ritenuti dei malati immaginari e invisibili. Per aiutare nell'intento, l'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia ha supportato questo progetto organizzando un incontro informativo questo pomeriggio presso la Biblioteca Comunale di Santa Cristina Gela.